Salve a tutti amici di Marcosbox e ben ritrovati nel consueto appuntamento settimanale con il riassunto di settimana con tutte le notizie che sono state postate su Marcosbox da me e dai miei amici Cominciamo con due notizie che non hanno attinenza con il mondo Linux ma sono autocelebrative Come avete avuto modo di leggere, questa settimana c'è stato il quinto compleanno di Marcosbox Marcosbox fa 5 anni di attività, è diventato, da essere un blog che trattava anche del mondo Linux e cose del genere è diventato adesso, dopo tanti anni, un blog apprezzato per quanto riguarda il panorama Linux italiano non lo dico io, lo dicono gli altri Nel corso degli anni Marcosbox, come avete avuto modo di vedere, è cambiato è cambiato perché non sono più soltanto io a scrivere articoli ma la famiglia si è allargata con l'arrivo di nuovi membri che hanno dato e stanno dando del loro al blog stanno dando una nuova connotazione quindi con più articoli, più approfondimenti, punti di vista differenti perché il che non fa mai male il blog poi nel corso degli anni è cresciuto anche grazie a voi e tutto questo successo appunto è merito vostro che avete con il passaparola pubblicizzato questo blog vi invito a farlo ancora perché? perché come avete anche avuto modo di vedere adesso abbiamo un ur personalizzato abbiamo un ur di primo livello si chiama, il blog adesso è raggiungibile all'inizio www.marcosbox.org quindi non è più il suo fisso blog sport anche se comunque restiamo su blogger perché la scelta di prendere questo dominio? principalmente perché mi hanno scassato i cosiddetti per anni prendi un dominio, prendi un dominio, prendi un dominio poi quando mi sono deciso di prendere il dominio è successo anche il patatrack perché un mese fa è stato preso il .com perché io all'inizio volevo prendere www.marcosbox.com però purtroppo è stato preso il documento che vende cibo per cani per corrispondenza e quindi la scelta che mi era rimasta era tra prendere il .org e prendere il .it e vabbè poi c'era anche il .net e altri doministranti però diciamo questi erano quelli che erano arrivati a bagottaggio alla fine si è optato per il .org più generico anche perché è più carino con il nome fa pensare chissà che cosa quindi appunto adesso è marcosbox.org www.marcosbox.org segnatelo e aiutatemi come vi stavo dicendo a condividere il blog perché che è successo? a seguito del passaggio a dominio personalizzato sono spariti tutti quanti mi piace sono stati sono spariti tutti quanti gli share su twitter gli share su linkedin e anche gli share i commenti condivisi su google plus questo perché il google praticamente cambiando l'url si è perso il riferimento questo ha provocato anche un abbattimento del page rank che adesso è sparito eravamo arrivati a 3 euro page rank adesso siamo eravamo spariti completamente quindi si ripercuoterà poi anche nei risultati di ricerca penso nelle prossime settimane anche se da quel che ho visto non sta avendo un così grande impatto nei risultati delle ricerche forse qualche cosa che deve soltanto aggiornarsi google penso vabbè passiamo adesso alle notizie veri e proprie le notizie veri e proprie passiamo con la prima notizia passiamo con a Stefano Stefano ha pubblicato il suo consulito riassunto del mondo open street map appunto c'è tutto un riassunto è un bello corposo questo riassunto di questa settimana perché va dal 10 marzo al 24 marzo andatevi a leggere se siete appassionati del mondo di open street map andatevi a vedere tutte quante le notizie di questa splendida comunità nasce, parte l'Umbre Bundle PC Android 9 mi sto ridendo perché ho pronunciato in una maniera schifosa per l'ennesima volta il titolo di questa cosa che cos'è? è un praticamente è una raccolta di giochi che potete comprare decidendo voi il prezzo la particolarità di questo Umbre Bundle 9 è che è rivolto sia a PC che a Android cioè troverete applicazioni e giochi che possono essere installati sia su PC che su Android io l'ho preso l'ho preso semplicemente perché per un titolo in particolare che è Bridge Constructor che è praticamente un gioco che voi potete viene chiesto appunto di realizzare dei vari ponti per l'attraversamento di macchine camion e voi dovete costruirli quindi sfrutta la fisica e tutto il resto poi essendo del settore dell'ingegneria queste cose mi inghippano l'avevo giocato su iPad e mi era piaciuto compratelo compratelo anche perché come ben sapete la particolarità del Umbre Bundle è che potete destinare parte della vendita oltre a decidere voi il prezzo quindi vi lascio immaginare se siete con le braccine potete anche comprare a poco dicevo la particolarità è che potete destinare parte del ricavato per l'Electronic Foundation e altre iniziative benefiche l'efficione della settimana è stata la chiusura del servizio Ubuntu One Canonical ha deciso che Ubuntu One non doveva più continuare questo perché? perché comunque la concorrenza si è fatta guerrita ci sono diversi sistemi che offrono spazio gratuito maggiore con prestazioni maggiori e anche spazio a pagamento con delle offerte molto buone ad esempio Google Drive che è comunque molto economico Canonical ha quindi deciso che chiuderà il servizio avete tempo fino a non mi ricordo quando a giugno fino al 31 luglio potrete scaricare i vostri file che avete su Ubuntu One poi dopo di che i servizi chiuderà e non saranno più accessibili che è successo? è successo anche che è sparito quindi da Ubuntu 14.0.4 sparirà Ubuntu One per me è una grande perdita perché comunque era un servizio aggiuntivo che poteva ed era anche carino che uno si trovava già un servizio di file storage integrato con il sistema diciamo che adesso le priorità di Canonical sono ben altre come sapete sta spingendo su Ubuntu per smartphone piace o non piace e comunque sono scelte anche perché i quattrini non sono poi infiniti anche se a marca il portafoglio generoso Vincenzo ha pubblicato poi un post su Systemd praticamente che cosa gli sviluppatori di Systemd stanno lavorando per migliorare le prestazioni di HCP in Systemd Network si è fatto praticamente che con un po' di lavoro si è riuscito a diminuire il tempo necessario a soli 50 millisecondi quindi con altre ottimizzazioni si è arrivato a soltanto i 750 microsecondi velocità, velocità, velocità a che serve poi? ma non... tutta questa velocità poi alla fine non... anche perché poi si evolve in base all'hardware non ci vedo tanto da gridare al miracolo questo significa che comunque in un futuro in un futuro network manager tutti quanti gli altri software di gestione della rete potrebbero lasciare a Systemdink l'onere della risoluzione per quanto riguarda il DHCP cose tecniche posso non fregare altamente a molti di voi però... l'evoluzione è tecnica allora... Vincenzo ha poi pubblicato la prima puntata della sua nuova rubrica chiamata BAC acronimo di ARC Configuration Hacking che cos'è? Broken ARC Configuration Hacking ho dimenticato la B praticamente è una nuova rubrica incentrata su ARC come fa presaggire il nome tenuta da Vincenzo per chi è appassionato di ARC chi vuole avvicinarsi al mondo di ARC la prima puntata c'è una... praticamente è dedicata ai desktop manager andatevelo a vedere è piaciuta molto questa rubrica perché ARC è una distribuzione che comunque suscita sempre interesse da parte dei pinguini un po' più navigati diciamo così guardate bene che anche in questo caso come era successo per la rubrica di Stefano il nome è... diciamo così ancora provvisorio se avete suggerimenti per il nome scrivetelo nei commenti e lo valuteremo passiamo adesso appunto a Stefano la sua rubrica il Marcos Box che si pronuncia così non è come io si pronuncia proprio che cosa notizie notizie curiosità sparse dal mondo dal mondo dell'informatica e quant'altro che diversamente non potrebbero avere un post dedicato su Marcos Box perché non sono strettamente legate al mondo Linux o alla telefonia una notizia che è stata carina e che mi ha colpito per questa cosa qua per quanto riguarda che cosa significa la tecnologia il cadavere di una donna è stato ritrovato mummificato a 5 anni dalla morte nel suo garage da parte di un esattore della banca dove la donna aveva il conto perché è venuto l'esattore perché se le sono accorti dopo 5 anni perché dopo 5 anni erano terminati i soldi che venivano automaticamente usati per pagare le bollette cioè miracoli della tecnologia a cui la depositata utilizzava il conto con un debito per pagare le bollette su un conto erano finiti i soldi l'esattore è entrato visto cazzo è morta questa per la serie anche gli umani fanno vomitare per quanto riguarda i rapporti con il proprio avvicinato con le persone perché cazzo dopo 5 anni come cazzo te le fai ad accorgerti a non accorgerti che quella poveretta è morta vabbè che dire altra notizia interessante è che come calvo si pronuncia a Bjornranden un villaggio delle isole Svalbard la quarantina di abitanti che vivono in questo ridente villaggio immerso tra ghiacci e orsi polari hanno la fibra ottica più veloce della Norvegia quindi potranno divertirsi a scaricare i pornazzi a tutta velocità la NASA poi ha deciso di tagliare i ponti con la Russia escludendo i progetti attuali sulla sperimentazione della stazione spaziale internazionale per quanto peripicca per quanto è successo con quanto sta succedendo con la crisi nell'Europa dell'est con l'Ucraina passiamo adesso alle altre notizie andate pure alla legge non ve le dico tutte e quante e poi non ve le andate alla legge al posto nella giornata di ieri era 4 sì c'è stata la diretta dell'intervento di Richard Stauman a Roma Stauman è stato ospite della della Camera in un convegno dal titolo colmari di vario tra scienza e politica e il terzo incontro del congresso mondiale per la libertà di ricerca scientifica Stauman ha tenuto un intervento per quanto riguarda il controllo che hanno i governi sulla libertà degli utenti e l'intervento che avete avuto modo di vedere nella giornata di ieri Stauman ha detto diciamo così il solito canovaccio perché è passato appunto dal concetto di privacy il concetto di libertà degli utenti il concetto sul fatto che ha sottolineato il fatto che noi tutti quanti siamo spiati con i smartphone siamo spiati anche con Angry Birds cioè non so se lo sapete il giochino spiava anche le nostre le nostre abitudini e che dire che dire Stauman Stauman ci ha sempre visto lungo su questo e adesso si sta confermando che tutto quello che diceva era vero siamo super controllati in maniera assurda altra notizia rilasciato dopo 16 anni e non è un pesce d'apria la versione 1.0 di apt il gestore standard di pacchetti utilizzato da Debian è derivante quindi Ubuntu è contato praticamente che principale novità consiste nel nuovo binario nel fatto che apt adesso combina più comandi utilizzati di apt get e apt cache che la funzionalità search adesso è stata migliorata i risultati sono ordinati alfabeticamente è stato introdotto il full upgrade che sarebbe praticamente raccontato il disto upgrade edit source che serve per editare il source.list utilizzando il vostro editor predefinito e che più e basta vabbè poi il resto che show la funzionalità show che funziona come apt cache show ma nasconde alcuni risultati come gli hash è arrivato se volete provare provatela ultima notizia della settimana passata questa mattina è quella del supporto alle gif animate che sbarca in telegram telegram adesso il supporto appunto alle gif già mi vedo date di gattini scambiati tramite tramite telegram gattini in gif animati e quant'altro altra novità di telegram è che adesso è possibile spostare le applicazioni sulla sd quindi se avete un telefonino con pura memoria interna potete spostarlo a differenza di altri programmi che continuano a segnalarsi a voler restare sulla memoria principale bene con questo concuso ci vediamo la prossima settimana sperando di avere tante altre notizie lunga vita e prosperità a tutti quanti mi raccomando adesso ricordatevi www.marcosbox.org se accedete con il vecchio indirizzo non succede niente perché c'è il redirect però capito memorizzatevi questo nuovo questo nuovo indirizzo nella vostra nella vostra barra degli indirizzi e nella vostra mente di nuovo lunga vita e prosperità a tutti quanti e ciao ciao grazie a tutti